Su Ombrina si può tirare un sospiro di sollievo, almeno pensando che se la prima partita vedeva in Otrev perdere 2-0 fuori casa, con il rischio sblocca Italia, agli ultimi minuti la partita è stata ribaltata da un 3-2 inaspettato. Usa questa metafora Augusto De Sanctis per commentare la notizia della proroga disposta dal Ministero sul permesso di ricerca alla società Rockhopper. Spiega De Sanctis, prima di lasciarsi andare allo sconforto, va chiarito che il permesso di ricerca non ha nulla a che fare con la concessione all'estrazione e coltivazione degli idrocarburi. È chiaro che con le leggi attuali Ombrina non si può fare, stiamo parlando di Ombrina. Poi ci sono tanti altri permessi di ricerca e istanze che stanno procedendo oltre le 12 miglia anche di fronte Pescara, quindi la guardia non deve essere abbassata, anzi l'impegno dei cittadini deve essere moltiplicato dalla vittoria su Ombrina. Ora, Rockhopper continua ad avere un permesso di ricerca che non è il permesso per estrarre, è un'altra cosa. Il permesso di ricerca ce l'ha dal 2005, scadrà naturalmente nel 2019, ora con la decisione del governo può al massimo arrivare al 2020, ma quindi comunque quel permesso di ricerca non glielo potevamo togliere, diciamo così, neanche il Parlamento avrebbe potuto incidere sul permesso di ricerca già rilasciato. Però l'importante sarebbe far sì che decada, ci sia un diniego dell'istanza del permesso per estrarre. Una partita ancora lunga ma che intanto sposta di qualche anno il rischio effettivo a largo delle coste adriatiche e che merita di essere vista come una grande vittoria. È chiaro che noi adesso dobbiamo operare per rafforzare il no allo sviluppo degli idrocarburi, non solo per Ombrina, ma in generale per il Paese, che dobbiamo uscire dal mondo degli idrocarburi, che stanno uccidendo il pianeta per i cambiamenti climatici. Per cui l'impegno deve essere moltiplicato dalla vittoria di Ombrina.